Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana. Pisapia sì, Pisapia no. Io non credo che nessuno abbia né il diritto, né la possibilità, né tantomeno spero l'interesse di mettere vedi sulle persone, le culture politiche. Il punto è un altro, bisogna insieme, tutti insieme, discutere del merito di questa proposta, della piattaforma, di quali sono i contenuti che la definiscono, di qual è il profilo di questa proposta, che io credo debba essere una proposta coraggiosa, capace di osare un cambiamento radicale, alternativo, netto, rispetto alle politiche di questi anni, a quella di questa maggioranza di governo, del partito democratico. Dunque questo è il tema. Il tema è questo e il tema è il modo con cui si costruisce questo percorso. Un percorso che non può che essere democratico, democratico da tutti i punti di vista, per scegliere le priorità programmatiche, anche se proprio fosse necessario scegliere un leader o una leader, anche per scegliere quello. Grazie.